Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a parlare di un testo che ha fatto molta strada nelle discoteche soprattutto appunto dopo il 2010 infatti è un testo dell'uscita del 22 settembre 2011 della pop dance Rihanna però è stata una produzione di Calvin Harris del DJ infatti questo è una track perfetta e studiata apposta per sfondare le classifiche è un brano dance potentissimo in cui Rihanna canta del trovare una persona speciale il significato equivale a una storia romantica di successo sufficientemente ambigua da poter essere riferita o desiderata da qualsiasi ascoltatore abbiamo trovato l'amore in un posto senza speranza il testo della canzone si intitola We Found Love che vuol dire appunto abbiamo trovato l'amore il testo inizia dicendo yellow diamond in the light quindi diamanti, gialli nella luce now we are standing side by side to stand vuol dire essere, stare in piedi quindi ora noi ci troviamo fianco a fianco lato a lato, side by side insomma as your shadow crosses mine to cross vuol dire attraversare, oltrepassare, superare, incrociare quindi mentre la tua ombra incrocia la mia what it takes to come alive quello che ci serve per vivere in vita per venire in vita per nascere to come alive is the way I'm feeling I just can't deny allora deny vuol dire negare quindi è il modo in cui mi sento e non posso negarlo but I gotta let it go ma lo devo lasciare lo devo lasciare andare we found love in a hopeless place abbiamo trovato l'amore in un posto senza speranza shine a light through an open door to shine vuol dire splendere, brillare, illuminare, fare luce quindi brilla una luce attraverso una porta aperta love and life I will divide l'amore e la vita io le dividerò turn away because I need you more to turn away vuol dire andarsene allontanare, respingere, cacciare via quindi allontani perché io ho più bisogno di te quindi più ti allontani e più ho bisogno di te feel the heartbeat in my mind heartbeat è il battito cardiaco quindi sento il battito cardiaco nella mia mente come se l'imbombasse quindi il testo è molto molto corto molto semplice non ci sono parole difficilissime infatti poi è ripetuto due volte e il testo appunto è da discoteca Calvin Harris appunto non non è sbaglia una quindi invito ad ascoltare il testo di We Found Love di Rihanna di mettere un mi piace al video e iscriversi al canale Musica Spiegata per continuare a seguire le traduzioni di questi grandi capolavori che hanno fatto la stata la musica internazionale e a capire i significati che hanno appunto i segreti che hanno spinto questi artisti a scrivere questi grandi testi per il momento è tutto alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.